Una nuova occasione di riflessione ai detenuti del carcere di Contrada Balate a Gela. La proposta alla proloco di Gela che attraverso l'eccellente collaborazione con la direzione dell'Istituto di Pena ha realizzato il calendario 2016 dal titolo Libertà e partecipazione, citando un vecchio brano dell'intramontabile Giorgio Gaber. Sono stati i detenuti ad elaborare i pensieri per ogni mese dell'anno. L'iniziativa è stata presentata nella sala riunioni del carcere alla presenza dei vertici della direzione della casa circondariale, della polizia penitenziaria, della giunta comunale e dei rappresentanti della proloco. Enfatizzerei la parola partecipazione perché la solitudine non porta a nulla. Probabilmente quando c'è un problema il primo pensiero è isolarti. Spesso abbiamo detenuti che vedono nell'altro il loro problema, l'avere compiuto delle cose è stato a causa di altri. E allora cosa scelgono? Scelgono di isolarsi. L'isolamento non è cosa buona. Partecipare, scommettersi, darsi, dare all'altro, creare relazioni. Le relazioni creano problemi ma perciò solo non finiremo mai di scommetterci, di partecipare. Come proloco siamo contentissimi per questa bellissima iniziativa che abbiamo portato avanti, nata dall'intuizione del nostro socio. È un calendario dove ogni detenuto ha potuto scrivere una frase, che in realtà non è una semplice frase ma sono dei messaggi. È un calendario unico in Italia perché proprio in ogni mese c'è una frase scritta da questi detenuti dalla casa circondariale di Gela. La cosa bella è che questo calendario ha un titolo, libertà e partecipazione. Libertà ovviamente è fondamentale perché non ci può essere l'una senza la partecipazione dell'altra. La cosa importante che noi consideriamo come evento è questo non dimenticarci degli ultimi e questa ci dà in qualche modo quel senso di appartenenza anche alla società. È una bella iniziativa dove è stato presentato un lavoro con i pensieri dei detenuti del carcere di Gela, un modo per poter integrare delle persone che sicuramente nella loro vita hanno avuto dei problemi ma che sono qui all'interno di questa struttura per poter pagare per i propri errori ma per poter mettere quelle condizioni per iniziare una vita nuova, diversa. Il progetto grafico è stato curato da Elisa Enedino e Gianni Caputo. La stampa porta la firma della tipografia Franco Gulizzi. Importante è anche l'apporto fornito dal Free Press Made in Sicily, edito da Giacomo Gulizzi. Il calendario è in distribuzione gratuitamente anche col prossimo numero del Corriere di Gela, diretto da Rocco Cerro.